3 Bravo! Ma tieni i compi? Bravo! E quanti anni ho? 3 3 3 3, esattamente, ma grazie 3 anni, di cui 2 in lockdown La mia papà! Questa è mio papà! La mia papà! Eh? Questa è mio papà! Questa è mio papà! Questa è mio papà! E poi c'è Margherita! Chef! Cosa cucini? La pizza! Cucini la pizza? Si! Oh! Ma tu vu li va a pizza, a pizza, a pizza Cap un marolan ugotto! Cap un marolan ugotto! Ma tu vu li va a pizza, a pizza, a pizza! Così non ti vedi papà? Così non ti vedo Guarda Beh molto bello amore Ho un'opera d'arte Un'opera d'arte? Nooo Monello è te papà No sei monello tu sei monello Che bravo amore Amore Non credo si faccia così in cucina Se esce l'asle È fredda È fredda Hai messo un po' di mozzarella amore Quanto ti piace da 1 a 10 la canzone di Sanremo Nuova? Uno Nooo Ma non l'ha sentita Non l'ha sentita No Noi Noi